ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie su fifa 17 eccoci qua carciomercato estivo luglio 2018 sono arrivato fino al 3 perché perché uno ho diciamo tra virgolette non ho dato la partecipazione alla coppa per campionato infatti supercoppa perché guardate già le squadre che ci sono e guardate anzi che mi sono capitate nel girone e boas vulgari madrid juventus più che coppa per campionato pare girone straforte di champions league comunque uno per questo e due perché così evitavo di farvi vedere i due acquisti che mi sono arrivati quelli con preseaco a parametro zero ovvero ericsson e delle fo comunque detto questo fatemene mettere subito nella formazione titolare allora io direi di far così a meno che eric se non sappia sta cdc ma non credo no infatti preferisco averci e poi metto delle foe bella roba anzi me lo metto un po anch'io non me la sento di farlo cioè di rubare in posto a due leggermente più giovani di lui è forte e anche lui è giovane però lo sono ancora di più e sono leggermente più mettenti comunque sicuramente sarà diciamo un via vai di titolare riserva titolare riserva ma le vada o lo posso vendere nel senso nel prossimo calcio mercato magari mi serve per fare qualche solda in più comunque procediamo ho già messo fra l'altro in vendita quelli che mi piacerebbe vendere ho fatto per magari diciamo diminuire i tempi comunque eccoci qua chiaramente come sapete io e sta coppa non la gio ma bensì la simulo e chiede mi gio ma per chi mi giova sta gente vi capisco che c'è se non sbaglio la ossa cosa ci sono nel 2018 i mondiali sì infatti perso mi giova sta gente vi vabbè è andato così sì ma qui vado fuori clamorosamente io dalla loppe speravo rifà d'uscitti invece mi sono capitate squadre fortissime nel girone comunque oh via se ne vende uno bello no voglio quanti 75 devo un po s'accetta comunque per quanto riguarda il budget trasferimenti stipendi diciamo che ho un budget secondo me nella media per quanto riguarda le squadre del premier league di solito per quello che hanno ovvero come avete visto ho 42 milioni odegarde 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 io lo posso vendere guardate scusate poi ripeto il discorso eh lo vendo solo se mi arriva un offertona tipo 14 milioni comunque ho lasciando sto quello lì 42 milioni e più o meno sui 120 mila mi pare di budget di stipendi diciamo che non è esagerato però non è nemmeno male se riesco a vendere qualcuno può diventare un budget importante ecco chiaramente io tanto parlo mentre qui va avanti prima di provare a fare qualche offerta io voglio terminare la coppa per campionato così magari ho un resoconto più reale del budget che ho a disposizione 5 a 0 bene ma siamo messi bene a parte che gioco un castagne un po' il tanto lo avete visto vabbè non capisco mai mai cioè capisco che non si è Donnarumma perché non c'è Krull non lo so perché non c'è Krull anche lui non lo sapeva è nazionale beh bella ferimenta comunque cioè ho per avere un un resoconto di quanto ho più più reale rispetto a quello che è ora quindi come sempre per fare qualche acquisto per provare a fare qualche acquisto aspetto sempre la fine della coppa per campionato qui guardiamo un po' hanno accettato che culo intanto sono orientati dal prestito Armistrong e Irons che stavolta anziché andare in prestito vanno direttamente nella lista dei trasferimenti ce lo metto subito allora Irons eccolo qui 22 anni 77 non è male però lo vendo il Armistrong anche lui 75 21 anni non è male non sono strafenomeni per quanto riguarda la qualità che hanno in proporzione all'età però possono essere abbastanza promettenti abbastanza lì si è allenati bene e no allora no non te lo do mi dispiace pensavo tu mi potessi dare di più caro Betis trovo 12 milioni mi dispiacerebbe eh se lo dovessi vendere però tanto meno o meno non è un titolare fisso lo posso sostituire facilmente ecco brutto da dire ma è la verità Amartei 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 ne vale 10,5 tanto eh non so di meno no ma 13,5 non me lo daranno mai però ci si prova andiamo a fare l'ultima partita contro i Wolfsburg siamo chiaramente già fuori ma anche Wolfsburg lo è Wolfsburg lo è di Ebonodi si è rischiato di vincere senza portieri almeno pareggia bene ultimi strasciati bella prima di merda comunque ragazzi adesso dov'è finita anche la coppa diciamo entriamo tra virgolette nel vivo del carci mercato e come ho fatto negli ulti video che riguardavano questa questa cosa per il carci mercato vi faccio solamente vedere eventualmente il momento in cui acquisto o vendo o do un presto ma non credo eh qualche giocatore se no la cosa va troppo lunga senza farvi delle trattative e roba simile quindi ci vediamo la prima cessione diciamo di quest'anno è a Martell al Watford per 12 milioni e mezzo che poi alla fine a Berna c'erano 9 e mezzo non capisco mai si tanto meno comunque allora inoltre doveva partire anche Odegaard perché incredibilmente il Betis era propenso a dare darci 12 milioni però è successo questo ora non lo so se dovesse arrivare altri effetti ci riprovo però di solito quando succede questo di solito il giocatore alla fine rimane con noi non va via quindi Odegaard probabilmente a meno che io non lo scambi con qualche altra squadra per qualche altro giocatore rimarrà con noi anche almeno per metà anno ecco per la prossima metà della stagione vedremo comunque ciao Martell un po' mi dispiace vedete anche il Benfica aveva fatto la stessa cosa aveva accettato la nostra contro offerta 10 milioni aveva accettato e tutto e poi ciò se veste quindi Odegaard per quanto riguarda la vendita singola non va via non può andar via ecco comunque prima ho detto la cazzata mi sono scordato una cosina diciamo che la prima vendita la prima cessione quest'anno non è stata Martell ma bensì quell'arte o Babu messi a mamma che comunque si è venduto a 4,75 mi pare quindi diciamo che a Martell è stata la seconda e basta terza cessione eh sì aveva venduto Gabigol a United per 85,5 milioni vabbè poi c'è un milione 75,5 io come ho fatto quanti giocatori ho detto io provo a fare una super contro offerta se me lo accettano bene se no male pace anzi rimane con noi ben venga hanno accettato e vi dirò di più purtroppo quella che farò vedere sotto ovvero quella del Bayer Leverkusen che è il chito Bayer 04 ha dell'incredibile perché non pensavo me l'accettassero mai invece hanno accettato anche quella poi bisogna vedere come andrà la trattativa se si concluderà o meno però c'è anche che è Anascio che è lì per abbandonarci di solito almeno mi era sempre successo così quando fanno contro offerta e il diciamo il club che comunque ha fatto l'offerta la ripropone con tutti i numeri sparsi tipo vedete 85 poi 6 6 4 25 4 bla 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 di solito quando è così vuol dire è come se ti danno tutto quello che hanno e tutte le volte la rifiutano quindi loro mi hanno dato tipo 52 milioni e con la cifra lì ho detto vabbè faccio 85 e quella lì me l'hanno accettata invece non l'hanno accettata quindi se questa cosa va in porto sono tra virgolette nella cacca ma non tanta cacca perché è veramente un altissimo budget da poter spendere però perché sono prima cacca per quanto riguarda i scorsi attaccanti perché così mi ritrovo con zero attaccanti vediamo un po' cosa accadrà e poi probabilmente ci lascerà anche lui fra l'altro ebbene sì alla fine anche Anascio ci ha lasciati 75 milioni e mezzo quello che comunque ci ha dato la dirigenza per il budget cazzo vediamo un po' cosa si fa cosa si farà via abbiamo venduto anche Aiden come vi avevo detto quindi un'altra cessione il primo acquisto dell'anno diciamo vede proprio lasciando quelli parametrizzati a lui embolo o embolio 25 milioni più Witzel che tanto lo volevo vende tra l'altro ci si guadagna come vedete guardate budget e stipendi di questo appunto e niente oltre ad essere un esterno destro è anche un attaccante quindi volendo anzi per ora va lassù un attacco a sostituire uno di due diciamo sostituisce che lecione vai quindi seppure non al 100% perché non lo è completamente però abbiamo comunque un attaccante ecco cari ragazzi direi che qui però ho fatto l'affarone nonostante ve lo mi va costa alla fine cioè l'affarone via ho fatto l'acquistone ecco il sostituto di Gabigol Paolo Di Bala ci spendo un po' ma mi stragarba quindi vai bello vieni altro acquisto Baswer mi stragarba vieni bello anche te vieni ciccio altro giocatore che ci saluta Arons ciao abbiamo venduto discretamente bene secondo me non manare esabitante però l'abbè venduto benino e niente altri soldini importanti ed ecco qua l'altro attaccante vero e proprio ovvero Rashford eccolo qua 18 milioni più Armistrong ma l'avventura è mezza quindi se non è preso bene il problema di loro velleggiano nel squadrone è lo stipendio pillano abusi di sordi accidenti a loro ed eccoci qua prima partita di campionato in casa contro Watford chissà fra l'altro se becchiamo subito ma il te contro proprio lex allora quanto riguarda le maglie va bene la gialla di loro speriamo di vedere la differenza allora 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 questa è una formazione che io ho deciso di mettere il titolare fra la rosa pre-definita però 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 guardiamo un po' io allora in casa farò già Baswer e poi in trasferta tira vabbè chiaramente si fa qualche cambio se ce n'ha bisogno così come discorso vale per delle foe che lo facciamo giocare in trasferta Rashford non lo so lo provo dopo tanto voglio partire così con un bolone attacco insieme a Dybala poi eventualmente faremo come sempre qualche cambio dopo batto nel calcio inizio l'avversario la partita inizia iniziamo bene cerchiamo di iniziare bene questa questa stagione dai attenzione attenzione Dybala attenzione Paolo Dybala si presenta così con l'alesocchio 1 a 0 dopo 12 minuti la sblocca lui attenzione embolo no da fermo tiro molto molto lento soprattutto fuori giò fuori giò fuori giò comunque lo va ributtato dentro eh fuori giò però finisce così il primo tempo 1 a 0 ma sinceramente oltre ad esserlo per il risultato sono contento perché non abbiamo concesso veramente niente al Watford tra l'altro a Martescia parentesi e no sono veramente molto contento ma comunque voglio fare qualche cambio levo Dybala subito così magari si affatica di meno dato per come stanno andando le cose è un cambio rischioso eh perché così sono molto arroganti che dire da vento loro non arriveranno in porta quindi faccio gioco di proprio scarsi e levo fra l'altro Dybala che per me è un fenomeno nel gioco ma anche nella realtà insomma permette il Rashford comunque quindi me la rischio e poi voglio elevare Dembélé per mettere Delefaux l'ultimo cambio lo lascio non si sa mai che forse sarà base per Tilemans anzi Tilemans per Bowser vabbè detto questo mi sto un po' appinando e incasinando inizia il suo tempo lezione in bollo 2 a 0 bel gol eh di potenza e di più potenza soprattutto perché qui non ha perso palla nonostante i contrasti eh la bozza sotto le gambe vabbè Delef molto molto fortuita la ossa comunque 2 a 0 embolo attenzione mamma mia primo tiro non importa però primo tiro del Waterford del settantesimo me lo vanno andata fuori vai cambio non so quando uscirà il pallone ho dormito devo farlo prima levo levo ericsson invece le faccio giocare Tilemans vai attenzione Rashford c'è spazio anche per lui 3 a 0 super partita attenzione mamma mia embolo risca la doppietta finisce così mamma mia che inizio 3 a 0 lo strameritato fra l'altro al Watford bene 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 sono molto contento dei meno di acquisti però è stata solamente una partita quindi nel senso bisogna vedere poi come andranno le altre non si può dare giudizi così affrettati 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 no scherzo affrettati va bene comunque ragazzi io direi una di fare una cosina non so cosa potrebbe succedere magari poi non succede niente niente di niente però non si sa mai volevo dividere la diciamo il caccio mercato di stima in due parti volevo giocare volevo provare i giocatori quindi l'ho fatto entrare nella prima parte questa partita qua però le altre perché a regola ci sono altre partite credo 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 due di solito ce n'è due sì infatti vabbè ce n'è una e poi due così vabbè chi se ne frega le farò le farò entrare nella seconda parte del caccio mercato che magari poi durerà che ne so sei minuti totale via vabbè comunque ragazzi arrivando alla conclusione allora io direi che però il caccio mercato sta andando alla grande e nonostante siano state partenze importanti sono arrivati anche arrivi forse addirittura più importanti ma l'osaganzo è stata che queste partenze importanti eh ci sono state con dei ricavi niente male perché comunque 75 milioni per uno e 75 milioni per l'altro io sto dicendo poi i soldi che mi sono arrivati effettivamente per quanto riguarda il budget direi che sono tanti calcolando che poi Embolo l'abbiamo pagato 25 vendendo vizie poi c'è stato il discorso dello stipendio abbiamo preso Rashford a Pau a poco meno di 20 milioni l'abbiamo si speso tanto per Dybala ma è Dybala cazzo che è più forte di Gabriel anche se Gabriel di per sé ha quelle caratteristiche però è molto più agile di Dybala vende più forte diciamo che nonostante tutti sono stati partenze importanti ma come ho detto prima arrivi importanti e forse forse anche più utili via tanto per capirci quindi il cacciomercato sta andando bene non è ancora concluso abbiamo qualcosa di anzi abbiamo sempre un bel po' di di budget disponibile chissà cosa succederà quindi ripeto magari può non succedere a niente però la seconda parte voglio farla appunto distaccata dalla prima grazie vabbè e quindi niente per ora le cose stanno andando così il campionato abbiamo iniziato in maniera ottimale super partita e vittoria estremeritata bene anche vedlo così via speriamo che possa essere veramente una una stagione entusiasmante in inizio diciamo il buongiorno c'è la mattina via tanto per capirci via quindi detto questo niente arrivo a conclusioni e come sempre in primis ringrazio per la visualizzazione poi vi ricordo di mettere barra fare se volete queste tre cose pillofiato ovvero mettete un bel mi piace al video condividetelo ma soprattutto iscrivetevi al canale così potrete rimanere aggiornati su tutti i video di questa serie qua ma non solo via detto questo vi aspetto nella seconda parte del calcio mercato estivo ciao ciao ciao